Grazie a tutti. Allora sì, io vado un attimo fuori tema rispetto a quello che è il titolo del congresso. Vi parlerò appunto di applicazioni di agenti antibatterici sui materiali tessili. C'è una richiesta crescente da parte del mercato, da parte dei consumatori, per quanto riguarda dei materiali antibatterici e in generale antimicrobici. A volte a proposito, a volte a sproposito. Alcune applicazioni sicuramente utili nello sportswear o nell'intimo, anche per evitare la formazione dei cattivi odori, eccetera. Certamente in ambito ospedaliero, a volte anche in ambito più industriale, ad esempio nell'ambito filtrazione, per filtri per sale operatorio o negli ambienti condizionati, insomma nei condizionatori d'aria. La ricerca si sta spingendo per superare certi limiti che hanno attualmente i biocidi che vengono applicati in ambito tessile. In particolare una breve durata dell'azione antibatterica dovuta al lavaggio, dovuta allo sfregamento, gli alti costi di alcuni materiali, ad esempio l'utilizzo dell'argento, il rilascio di questi biocidi nell'ambiente o sulla pelle di chi indossa i tessuti antibatterici. Quindi la ricerca si sta spingendo verso prodotti o a basso costo e o naturali, di origine naturale, in questo modo si limita in parte l'inquinamento ambientale, l'utilizzo di processi in grado di legare chimicamente questi biocidi alla superficie del materiale tessile, oppure l'utilizzo di polimeri antibatterici, che sono polimeri che hanno un'azione intrinsecamente antibatterica, quindi con un alto peso molecolare si riduce automaticamente il rilascio nell'ambiente di questi materiali. Nel nostro istituto a Biella, al CENERA di Biella, stiamo seguendo sostanzialmente tre strategie. La prima è l'utilizzo di molecole a basso peso molecolare che si legano alla superficie della fibra, e poi l'utilizzo di due polimeri, uno il chitosano, che è già stato anche presentato stamattina, attraverso un processo di ovicurine sul tessuto e un polimero che invece è di sintesi, il polipirrolo, che ha svariate proprietà, una delle quali è anche l'azione antibatterica. Per quanto riguarda i biocidi naturali, abbiamo iniziato lavorando con sostanzialmente degli acidi organici di origine naturale, poi abbiamo testato altre sostanze di origine naturale che dalla letteratura risultavano avere un'azione antibatterica. In particolare qui vi presento i risultati dell'acido citrico e alla fine sono la sostanza che ha dato i risultati migliori. Brevemente il processo con cui lo applichiamo al tessuto si opera prima un desizing sostanzialmente del tessuto, successivamente si ha un'impregnazione con una soluzione di acido citrico e un curing a più alta temperatura, 120 gradi. In questo modo riusciamo a legare chimicamente l'acido citrico alla superficie del tessuto. Abbiamo verificato la cosa in particolare con l'IR, anche dopo diversi lavaggi manteniamo la presenza di un picco associato ai gruppi carbossilici dell'acido citrico che prima il cotone non aveva sostanzialmente. Come azione aggiuntiva abbiamo osservato anche un netto incremento della velocità con cui il cotone assorbe una goccia d'acqua. Qui volevamo misurare l'angolo di contatto ma di fatto quando il tessuto dopo il trattamento con acido citrico non è più possibile misurare un angolo di contatto perché l'assorbimento è veramente veloce. Questi sono i risultati dei test antibatterici che sono stati condotti seguendo una norma standard sostanzialmente contro Escherichia coli e contro Staphylococcus aurea abbiamo eccellenti proprietà antibatteriche. Con gli altri acidi e con le altre sostanze che abbiamo testato non abbiamo ottenuto questi risultati ma l'azione antibatterica era veramente bassa al di sotto del 50% quindi non l'abbiamo più presa in considerazione. L'altro processo che vi presento è l'UV-Curing del chitosano questo è un lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con il Politecnico di Torino il professor Franco Ferrello la dottoressa Monica Periolatto e la professoressa Roberta Bongioanni. Sostanzialmente un tessuto viene impregnato con una soluzione di chitosano viene irraggiato con la luce ultravioletta in un ambiente ad atmosfera controllata. All'interno della soluzione sono presenti dei fotoiniziatori il polimero crosslinka e si lega chimicamente alla superficie della fibra. Lo scopo di questo lavoro era sviluppare un materiale filtrante in grado di rimuovere molto velocemente la decontaminazione dall'acqua dai microorganismi. Questo materiale è stato confrontato con un cotone, un tessuto di cotone cationizzato. Allora, qui brevemente riportato la procedura per depositare questo film di chitosano come vedete chitosano ce n'è parecchio si vede in questa foto proprio per avere questa azione antibatterica molto forte e molto veloce. Abbiamo scelto di usare delle garze quindi un tessuto con delle aperture molto larghe perché in questo caso lo scopo era quello di non filtrare meccanicamente i batteri ma avere semplicemente un supporto in grado di esporre la più alta superficie trattata col chitosano ai batteri. Questa guarda è stata anche trattata con un agente antibatteri con sale d'ammonio quaternario che è stato legato chimicamente alla superficie della fibra. Si vede che il trattamento provoca un restringimento del cotone quindi si nota un'azione di cross-linking già di per sé. Inoltre è stata la presenza di questo sale d'ammonio quaternario è stato anche verificato con XPS e con l'FTR. Questi sono i risultati dei test antibatterici in condizioni statiche tra virgolette in quanto in realtà il tessuto viene agitato a 190 RPM per avere un buon contatto con i batteri e tutti e due i trattamenti hanno avuto dei buoni risultati antibatterici in realtà il chitosano li aveva ottimi. Successivamente a questa prova abbiamo effettuato una prova di filtraggio a condizioni ovviamente di laboratorio ma più vicina a quella che potrebbe essere poi l'applicazione reale quindi il tessuto è stato inserito in un contenitore filter holder che vedete nella foto e la soluzione contenente i batteri quindi l'inoculo batterico è stato ricircolato più volte all'interno di questo filtro prelevando circa ogni 10 minuti un millilitro di questo inoculo e piastrando quindi per vedere poi la crescita batterica. Sostanzialmente calcolando la portata che mandavamo e il grado di vuoto del filtro il tempo di contatto tra la soluzione e il materiale contenente l'antibatterico era circa 4 secondi era 4 secondi quindi come vedete abbiamo ottenuto un abbattimento del 99% degli antibatterici dei batteri in particolare stafilococcus aureo già dopo 4 secondi quindi dopo il primo ciclo mentre la crescita e la pneumonia era un po' più resistente era intorno all'80% al primo ciclo e poi il 98% al secondo dopodiché l'azione antibatterica è completa questo per quanto riguarda il chitosano invece il tessuto cationizzato aveva un andamento molto più lento dell'azione antibatterica quindi si arriva all'incirca al 40% dopo 5 passaggi quindi dopo una ventina di secondi di contatto quindi il chitosano ha veramente un'azione molto forte antibatterica molto forte e molto veloce l'ultimo trattamento antibatterico di cui vi voglio parlare è il polipirrolo il polipirrolo lo studiamo da diverso tempo nel nostro istituto in quanto è un materiale che ha diverse proprietà come vedete ha già una struttura chimica coniugata quindi consente il trasporto delle cariche elettriche all'interno del materiale stesso quindi un polimero elettroconduttivo avendo queste cariche positive nella catena polimerica ha anche un'azione antibatterica brevemente come viene sintetizzato perché è un polimero di sintesi il polipirrolo si fa una soluzione di un ossidante eventualmente di un dopante si mette il tessuto si fa un'impregnazione col tessuto si aggiunge il monomero dopo 4 ore il monomero reagisce viene ossidato forma il polimero che si deposita spontaneamente sul tessuto e quindi io alla fine ho un tessuto il polipirrolo purtroppo ha un colore nero quindi non si può variare molto da questa ricetta se piace il nero si usa il polipirrolo se no si deve usare qualcos'altro noi abbiamo applicato questo polimero su diverse fibre dalla lana al cotone anche fibre sintetiche in particolare le fibre naturali e le fibre cellulosiche artificiali hanno una buona affinità per questo polimero quindi lana e cotone sono molto usate le abbiamo usate parecchio ma sostanzialmente la deposizione avviene su tutti i tipi di fibra sia sintetica che naturale visto che questa è una cosa nuova che il polipirrolo avesse un'azione antibatterica abbiamo indagato oltre per capire qual era la sua azione reale sui batteri perché era antibatterico sostanzialmente qui vedete dei batteri di schirichia coli delle celle di schirichia coli su un cotone non trattato e hanno la loro forma normale che uno si aspetta abbia le schirichia coli quando invece li andiamo a osservare dopo essere stati a contatto su una fibra di cotone trattata col polipirrolo la loro forma è cambiata parecchio sono piattiti sono allargati questo perché il polipirrolo noi supponiamo abbia l'azione di aprire la cella dei batteri e quindi lascia fuori uscire i componenti intracellulari del batterio quindi in questo modo il batterio muore abbiamo anche indagato quanto polipirrolo bisogna aggiungere sul tessuto per avere un'azione antibatterica in particolare questo l'abbiamo fatto vi riporto qui i dati per lo stafilococcus aureus in pratica già con 3% di polipirrolo abbiamo un 95% di abbattimento dei batteri con il 9% siamo al 100% ma l'azione antibatterica è sostanzialmente confrontabile sia con le schirichia coli che con il contro l'aclet sia la pleumonia su questi risultati abbiamo collaborazione con YoungSRL e due partner spagnoli abbiamo avuto un progetto nell'ambito del bando Manunet Network qui abbiamo fatto un prototipo con loro in grado di avere una potere schermante dalle onde elettromagnetiche di 12 decibel a 900 megahertz e un eccellente 100% di riduzione batterica abbiamo in corso un progetto sul piano nazionale della ricerca della tecnologia militare finanziato dal ministero della difesa per produrre dei tessuti multifunzionali questo è un progetto coordinato dal CNR ISMN di Roma si tratta di creare dei tessuti multistrato che hanno molte proprietà contemporaneamente quindi antifiamma schermature delle onde elettromagnetiche antistaticità antibattericità rimozione degli inquinanti organici e biologici al momento abbiamo ottenuto eccellenti proprio tanti batteri che è un'eccellente stabilità all'abrasione una buona stabilità ai lavaggi di questi trattamenti in ultimo vi presento per quanto riguarda il polipirolo applicato con deposizione chimica un lavoro che abbiamo fatto in all'ambito di un progetto coordinato dall'ISTEC di Faenza l'istituto del CNR che si occupa di ceramiche loro hanno una tecnologia che si chiama biomineralizzazione in pratica riescono a depositare materiali inorganico fotocatalitico che utilizzo in opto elettronica su dei materiali organici loro in particolare lo applicavano anche al legno con loro abbiamo avviato questa collaborazione perché questo materiale ha anche proprietà di sensing o comunque di applicazione in ambito delle celle solari e avevano bisogno di un materiale in grado di condurre la corrente elettrica che fosse organico quindi abbiamo fatto una deposizione abbiamo su varie fibre naturali in particolare uno che ha dato i risultati migliori è stato proprio la lana abbiamo depositato prima il polipirolo su una fibra di lana dopodiché il polipirolo è stato dopato aggiungendoci delle molecole che ammiglioravano da un lato la conducibilità e dall'altro favorivano il processo successivo di biomineralizzazione su questo Istec ha depositato uno strato di polimero di ossido metallico che aveva proprietà fotocatalitiche e siamo riusciti a produrre una fibra di lana che aveva un band gap di 3,68 elettronvolt quindi questa è la prima parte del progetto quindi abbiamo queste fibre praticamente tessili sono fili di lana quasi normale cioè convenzionale almeno la fibra di partenza che ha queste proprietà di semiconduttore quindi potrebbe teoricamente essere la parte iniziale di una cella fotovoltaica abbiamo appena presentato un nuovo su un nuovo bando del Future Emerging Technology per avere un finanziamento per proseguire la ricerca e riuscire a produrre finire il lavoro insomma siamo riusciti ad arrivare al filato adesso vorremmo riuscire ad arrivare al tessuto e avere delle celle fotovoltaiche veramente indossabili quindi in grado di generare corrente elettrica da un tessuto vero e proprio quindi flessibile come quello di un tessuto normale abbiamo in corso anche un altro progetto di Horizon 2020 su questo argomento che è il PROTECT questo è vuole utilizzare dei processi rapidi e veloci per produrre delle superfici antibatteriche tessili sia per uso medicale sia per il trattamento delle acque quindi per le membrane anche qui sono coinvolti principalmente istituti che fanno nanoparticelle inorganiche noi in realtà in questo progetto abbiamo l'unica parte che riguarda le nanoparticelle invece di materiale organico questo perché come abbiamo visto prima come vi ho fatto vedere prima il processo di sintesi e deposizione del polipirrolo sui materiali tessili sostanzialmente è un processo batch che richiede all'incirco 4 ore per la deposizione quello che però noi sapevamo era che il polipirrolo mentre si deposita subito prima di depositarsi spontaneamente produce delle nanoparticelle di circa 300 nanometri quindi le vedete bene proprio su una fibra di lana in questo progetto cerchiamo di abbiamo separato sostanzialmente la fase di sintesi dalla fase di deposizione quindi sintetizziamo in batch e in alti volumi le nanoparticelle di polipirrolo che poi vengono depositate con metodi online veloci con ultrasuoni spray o altri metodi di spalmatura dai colleghi in Israele torno un secondo indietro questi sono i processi sostanzialmente che loro hanno un processo spray e un processo di impregnazione con ultrasuoni questo è sempre un processo con ultrasuoni ma è una macchina questi due per tessuti questo qui invece per cateteri per l'utilizzo in ambito medico quindi andando veloce quello che noi sapevamo che il polipirrolo prima di depositarsi e formare un film sulle fibre ha questa dimensione nanometrica aggiungendoci un tensio attivo sostanzialmente riusciamo a bloccare questo stato di nanoparticelle queste sono le prime prove che abbiamo fatto sostanzialmente aggiungendo un agente disperdente riusciamo a avere una dispersione stabile di queste nanoparticelle abbiamo fatto delle prime prove di deposizione qui a Biella ottenendo il 98,6% di riduzione antivaterica che è in linea con i risultati che abbiamo ottenuto con la deposizione chimica diretta dopodiché abbiamo mandato il materiale la dispersione di polipirrolo ai colleghi in Israele che hanno gli impianti di ultrasuoni loro hanno prodotto una serie di tessuti trattati in questo modo in particolare qui vedete il poliestere su cui abbiamo fatto una serie di caratterizzazioni per quantificare quanto polipirrolo erano riusciti a caricare e questi sono i primi risultati hanno già effettuato dei test antibatterici e sono in linea con i risultati che abbiamo ottenuto noi intorno al 99 98-99% di riduzione batterica quindi abbastanza buoni questo è il primo anno a fine anno scadrà il primo anno di progetto quindi siamo già a buon punto diciamo voglio ringraziare i colleghi che lavorano con me su questo argomento quindi sui trattamenti antibatterici per l'applicazione di tessile e vi ringrazio per l'attenzione ho visto l'applicazione dell'acido citrico su fibra cellulosica che può conferire in maniera stabile una proprietà antibatterica mi chiedevo dal punto di vista delle resistenze della depolimerizzazione della cellulosica se avesse un impatto notevole abbiamo fatto in realtà non abbiamo indagato molto ma abbiamo fatto delle prove di resistenza meccanica subito dopo il trattamento c'è un leggero decadimento ma non importante adesso non vado a memoria era intorno al 10% 15% è ancora accettabile se vuoi chiedere questa sostanza si può immettere una matrice di poloretano insolvente oppure non è compatibile? il polipirrolo esatto allora noi adesso siamo in grado di produrre delle soluzioni accose di nanoparticelle di poliuretano non lo so se il poliuretano waterborne la parte più importante è il solvente se il prodotto è solubile insolvente oppure no 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 sono dispersioni accose non si scioglie insolvente da quello che ne so non si scioglie insolvente grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti